E ciao a tutti ragazzi sono ieri e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati in una nuova election con la maglia della volta scorsa, con la maglia ragazzi della volta scorsa perché sto registrando 10 minuti dopo il video della settimana scorsa Non siamo qui per parlare di questo fondamentalmente, siamo qui ragazzi perché due settimane fa, se non erro vi ho fatto vedere i primi due episodi di un animation vs minecraft di 10 anni fa Ragazzi ho trovato il terzo episodio che dura ben 8 minuti e 22 secondi Quindi mettiamoci comodi, popcorn alla mano, qualcosa nell'altra e facciamo partire animation vs minecraft 3 Ah no, animator vs animation, quindi è la versione prima di animation vs minecraft 3 Tra parentesi, original, non so perché devi dire original ma ok 3, 2, 1, go L'ultima volta c'eravamo lasciati con il nostro omino in carcere E infatti eccolo qui con la palla al piede Madonna ragazzi I cambiamenti che ha fatto Alan Baker sono stati mostruosi Già allora era bravissimo Poverino che mi fa una pena allucinante Sick figure, cosa sta facendo? Sick figure, cosa è che ha fatto? Cosa sta facendo? Ah questo è per liberarsi, devi riuscire a premerlo per liberarsi ma non ci riesce Dai poverino Ok Che cos'è? Ah ok No, ha preso la fraccetta, ha preso No 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 Che grandissimo errore Enorme Eh vabbè Ben capito Qui E' andata a finire? Non puoi chiedere la schiena perché è tutto distrutto Cos'è sarebbe questa roba qua? No Quando si dice avere fame di cultura Non è proprio così Che ci sono le lettere? Ma che figata ragazzi Scherzavo questo è molto più figo Questo è molto più figo No 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 fermi Voi questa forse i più pecconi non la conosceranno Ma era un rottura di palle per non dire altro Che ti veniva fuori Hai bisogno di consigli di scrivere il tuo testo? No te ne devi andare Graffattare il cavolo Dai ricordi ricordi di Forse tipo dieci anni fa Mi ricordo che è tipo L'elementare con c'era Stagraffetto Un'entrida fa E' così carina e colosa Come per dire ciao Posso aiutarti? No Ok pacman Lo minaccia? Molto bene Vediamo cosa c'è che ho avuto di fare Ok Eh Oddio Wow Cosa facendo? E' una spada No vabbè Che grandissima figata Poi No 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 Un arco? Ah la pistola Addirittura una pistola Non so perché Ragazzi Non so perché fare il tifo In questo caso Eh Non vale così Non vale però in questo Che fino a Oh E' fortissimo questa graffetta ragazzi Io sono senza parole No vabbè No 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 Una graffetta Fa il rosso Ma il rosso cos'è un suo alleato Un suo nemico Ah ok è praticamente No dai Dark lord Dovrebbe essere Che il dark lord Ok Questo qua il dark lord Ha il compito di distruggere Il chosen one Cioè Quello nero No Graffetta Attenzione Ok Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Raga E' fantastica Ve lo giuro Sono senza però Va bene Quanto forte Lo rosso No no Aspetta aspetta Che sta Non so ragazzi Perché di fare La freccetta Ho un brutto presentimento Per quelle carte Ma non giocare a solitario Tu cosa stai facendo In questo momento Ti pare il momento Di giocare a solitario Non ho capito Scusa Esatto Questo intendiamo Con brutto presentimento Ok Si sta Ma lui Gioca Loro si lanciano Carte immortali E loro gioca Solitario intanto Ah Rimbalzo F2 Scusa la capa Rifatto Ok Lo sposto fuori Oh Ok Sono un po' Tantini Che figata Wow No 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 L'ha bloccato No Scherzavo Non viene vero Oh No Prato fiorito Ragazzi Prato fiorito Sono Sono le mine Mamma mia Che figata E non può uscire Sono le mine appunto No dai Vabbè Questo è Vabbè E ora E ora che fai Scappa Giustamente No È scappato Nella cartella Download Ed è Del titolo Ai video No Non vale così Però dai Ma c'è anche L'ulmino giallo D'altra volta Non demorde Signori Pazzo Criminale Potrebbe essere Una mina Quella C'è Contro il nero E niente Porca di quella Quanto rischiava Lancia sulle mine È fortissima Quella volta Ragazzi È veramente fortissima Sarà forte Abbastanza Ma la sto domando Non vale così Ecco Te pareva Le mine sono esplose Si arrende Ma quello Gioca ancora Solitario Ma ti pare Si sono alleati Direi di sì E ora Sono cazzo Che male Quanta distruzione In un solo desktop No Non può spegnerlo E non può spegnere il pc Questo è difficile Ora È durissimo Per il maudo Di vincere Questa sfida Ehi vabbè Quante esplosioni Oddio È crashato È finito così Ma Che figata Ragazzi A me è piaciuto Veramente Veramente Tanto Quindi Che dire Io cercherò altre Magari Animation vs Minecraft O Animator vs Animation Come in questo caso Magari anche Non di Alan Baker Anzi Se te li consiglio Ragazzi Nei commenti Scriveteli Che sono ben lanciati Magari possiamo trovare Qualche altra miniserie Su cui appunto Fare i video Domenicali O comunque Da far uscire appunto Durante la settimana Sempre come reaction Su questi video Che a me piacciono Veramente tantissimo E spero che siano piaciuti Anche a voi Teoricamente Dovrebbe essere L'ultimo Di questa miniserie Vecchissima Di additura Dieci anni fa Quindi io vi ricordo Un like e un commento Se il video vi fosse piaciuto Io sto morendo Di caldo In questo momento Nonostante Abba appena piovuto Ma questo E' un altro discorso Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao 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 Abona Ciao Grazie a tutti.